Giappone, la terra trema, sciame sismico e allerta tsunami, la scossa più forte di magnitudo 7.6, timori per una centrale nucleare. Mosca intensifica gli attacchi, 90 droni, 8 missili sull'Ucraina, Zelensky promette, nel 2024 colpiremo duro. Uno sciame sismico e imponente, 21 terremoti hanno colpito la costa centro-occidentale del Giappone in poco più di 90 minuti. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese la scossa più forte è stata di magnitudo 7.6. I movimenti tellurici hanno spinto le autorità a dichiarare un'allerta tsunami maggiore nella prefettura di Ishikawa, dove è stato registrato l'epicentro, e un'allerta di livello inferiore per il resto della costa occidentale dell'isola di Honshu. L'emittente pubblica giapponese ha detto che l'acqua potrebbe raggiungere i 5 metri di altezza. Si prevede che uno tsunami di circa 3 metri colpisca Niigata e altre prefetture sulla costa occidentale. L'area comprende una centrale nucleare. L'operatore, la Tokyo Electric Power Company, ha dichiarato che sta controllando se ci sono problemi, ma per ora non sono state segnalate irregolarità. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime, feriti o danni. Nel suo discorso di Capodanno, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha giurato di colpire ancora più duramente le forze russe nel 2024. Il suo messaggio è arrivato meno di 72 ore dopo che Mosca ha lanciato una rafica di missili e droni contro le città ucraine, uccidendo almeno 39 persone in uno dei più grandi attacchi aerei dall'inizio della guerra. Con il conflitto che sta entrando nel suo terzo anno, Zelensky ha dichiarato che aumenterà la produzione nel settore della difesa, esortando gli alleati occidentali a mantenere il sostegno. A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha adottato un tono di uguale sfida, elogiando l'esercito e i soldati al fronte nel suo discorso pre-registrato di fine anno. Putin ha messo l'Ucraina al centro del suo intervento e ribadito che la Russia non si ritirerà mai e che nessuna forza potrà mai piegare i russi. Nel frattempo, parenti e sostenitori dei soldati, fatti prigionieri dalla Russia dopo essersi arresi, in seguito a settimane di resistenza nella ceieri Azovstal di Mariupol, chiedono il loro rilascio. Nell'ultimo giorno del 2023, gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 35 persone che si aggiungono alle oltre 20.000 vittime nei combattimenti che stanno mettendo a ferro e fuoco la striscia. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che la guerra continuerà fino al rilascio di tutti gli ostaggi e allo smantellamento di Hamas. Secondo le agenzie umanitarie, più di 1.400.000 persone a Gaza sono sfollate. Chi scappa dal conflitto è costretto o a rifugiarsi nelle strutture delle Nazioni Unite o a dormire all'aperto. L'intensa offensiva israeliana sta rendendo difficile l'erogazione degli aiuti umanitari, la cui quantità è di gran lunga e inferiore alle attuali necessità. Sui social media, la Croce Rossa palestinese ha esortato a tenere presente che più di 2 milioni di persone a Gaza hanno lottato per vedere l'anno nuovo e sono alle prese con la battaglia quotidiana per sopravvivere. Nel frattempo, i grattacieli di Tel Aviv si sono illuminati di giallo per chiedere il rilascio degli ostaggi tenuti prigionieri dai militanti di Hamas nella striscia di Gaza da oltre 80 giorni. Il 31 dicembre, durante un incontro con i massimi comandanti nordcoreani a Pyongyang, il leader Kim Jong-un ha ordinato ai massimi ufficiali militari del suo paese di annientare la Corea del Sud e gli Stati Uniti nel caso in cui le due nazioni iniziassero un confronto armato. Se il nemico sceglie lo scontro e la provocazione militare contro la Repubblica Democratica Popolare di Corea, il nostro esercito deve sferrare un colpo mortale per annientarlo completamente, ha detto Kim. Un quarto di secolo, l'euro compie 25 anni. Correva il 1999 quando la moneta unica europea vide la luce il primo gennaio. Per i primi tempi fu solo una valuta virtuale. Monete e banconote arrivarono con l'avvento del terzo millennio, tre anni più tardi, il primo gennaio del 2002. In una lettera aperta pubblicata sui media dei 20 paesi che oggi usano la moneta unica, che i vertici dell'Unione Europea ne tessono le lodi. L'euro, dicono, ci ha regalato semplicità, stabilità e sovranità.